Ti dico di no Ciao Luis, buonasera Benvenuto caro, come stai? Chiavi di Azeroth Madonna C'era un altro tizio, sarà entrato? Che lo so Ah, è proprio soddisfacente fare Prima caricata, bam Al baretto proprio Andiamo dall'altra parte della mappa Nice Ciao Tony Buonasera, benvenuto caro, come stai? La goduria Pure spaccato il pallet a caso Quello è afka Mi sapevo che quello è andato a afka, raga Ok, si è svegliato Godo YouTube Comunque fa schifo sto martello Tra parentesi l'ho appena visto Il mezzo dei mandriani 3 su 3 Ve lo girare un po' di più Non ce l'ho fatta Andiamo di là Ma salve E siamo a 4 No, su 5 però dai E niente Questo game Cos'è sta andando a vera Ciao Ito Un giorno e mezzo Alla fine dei sur Muata ha Come stai? Come stai Ito? Ci provo ma Mi ha fatto il rumore dello stun Ok, si è arreso Mi ha fatto il rumore dello stun Non mi ha stunnato E poi è venuto pallet Che cazzo è successo? Ciao Yuri Buonasera Benvenuto Come stai? Al pareto Li stiamo mandando comunque Quasi la prendo Uh, così la prendo Probabilmente mi ha visto Perché sono stra alto Light Hai un pallet lì amico Ah, c'è un TL qua però Comunque quello che era Penso che sia Che sia svegliato Per via della motosega No, no, ma Ah, dici che L'ho risu... Vabbè, abbiamo già finito il partito Minchia Stava limitando il pallet Stava limitando il pallet Salve signore Ciao Dante Come stai caro? Anche limitando Limando Ah, limando Niente Limando Limitando E imitando Anche Vabbè, GG boys Best game Milderale game Che mi è mai successo In Braves Tutti Mi ha spinto Di lato fortissimo Comunque è per questo motivo Che io gioco Con il doppio Con la doppia scarpetta No Ciao Barbatro GG I guess Vabbè, dai Ho giocato bene Non ho potuto dire niente Ho fatto una partita divina Con il Billy Io ho scritto GG Voglio essere qualcosa Se qualcuno scrive qualcosa Sono curioso 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Chachi Buonasera Benvenuto Ciao YouTube Mamma Dedico a te Leggimi mamma Che grazie dell'urk Capito Grazie